Buongiorno amici di Vivere in Prati, siamo su Via Trionfale e a metà mattinata una pausa merenda e siamo qui appunto al panificio Bonci poco prima del mercato dei fiori per intendi c'è l'inizio di Via Trionfale non so ancora se dolce o salato perché qui differenza di Pizzarium oltre alla pizza propone Bonci, propone prodotti a forno quindi anche cornetti, crostate, dolci una giusta pausa andiamo a vedere se dolce o salato Questo è il panificio quindi qui oltre alla pizza ci sono tutti i prodotti da forno, pane, dolci, pizzette e tutti i pani speciali, graniaziali, estracotto, pilarlo di farro, parro e orzo, è un paradiso poi anche altri prodotti tutti selezionati per la qualità Pizza e mortazza? Solo per me? No, cambio idea, mi dai una rossa, guarda che splendida mamma mia che favola eccoci qui siamo fuori il locale e proviamo la famosa pizza e mortadella o pizza e mortazza della forno di bocci, wow, sono rimasto senza parole Questa è favolosa Croccata estremamente morbida all'interno, mortadella favolosa Oliosa in superficie anche con sale, tipica pizza romana Bonci è sempre una garanzia